Dopo circa due anni e mezzo, questa mattina si è giunta l'epilogo di un'operazione che il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in conferenza stampa al comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza, definisce completa, che parte dalla produzione e arriva alla grande distribuzione della cocaina nel traffico internazionale, con 54 fermi tra Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e 8 milioni di beni sequestrati, che ha visto l'impiego di oltre 500 finanzieri. L'operazione, denominata Stammer, è stata condotta dal nucleo di polizia tributaria GICO della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinata dalla DDA di Catanzaro, con la cooperazione fondamentale della National Crime Agency inglese, della Polizia Colombiana e della Direzione Centrale Servizi Antidroga. L'organizzazione, estremamente complessa, era composta da diversi sodalizi criminali del Vibonese, riconducibili all'Andrina Fiare di San Gregorio di Pona, all'Andrina Pititto Prosta Moiannello di Mileto. Organizzazioni satellite rispetto alla più nota degemone cosca dei Mancuso di Limbadi, con la partecipazione delle Endrine della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. L'inchiesta ha permesso di constatare i continui scambi tra le famiglie colombiane e quelle calabresi. Intercettazioni in automobili e abitazione hanno permesso di sequestrare in Colombia 8 mila chili di cocaina nascoste in una piantagione di banane. In Italia, nel porto di Livorno, è stato sequestrato il carico di prova di 63 kg. L'indagine, per la quale ha espresso vivo apprezzamento anche il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha permesso di ricostruire il progetto non realizzato di trasporto di cocaina anche a mezzo aereo utilizzando lo scalo di lamezia terme. Un risultato importante dunque che ha consentito di infliggere all'organizzazione criminale una perdita economica di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro. Rossella Galati per la Cineus 24. Rossella Galati per la Cineus 24.